Buongiorno a tutti, ben svegliati e benvenuti ad una nuova settimana in compagnia di Teleponte di Prima di Tutto. Appuntamento del lunedì come al solito dedicato soprattutto ai resoconti sportivi ma non solo, prima parte dedicata alla rassegna stampa prima di cronaca e poi di sport, nella seconda parte con Francesco Graduato e Paolo Marinucci si parlerà di sport nei nostri studi. Apertura dedicata come al solito al meteo tratto dal sito meteoteramo.it, andiamo a vedere insieme la situazione per oggi in Abruzzo alla mattino sereno sulle zone montane, sereno sulle zone litorane e collinari, nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale appenninica, sereno sulle zone orientali, tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale, sereno sulle zone adriatiche, temperature in visibile aumento massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 20 e 23 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli orientali, mari calmi o quasi calmi. Questo per quanto concerne proprio le previsioni del tempo, possiamo iniziare quindi con la rassegna stampa, iniziamo dal quotidiano Il Centro, andiamo a vedere insieme proprio la prima pagina del quotidiano regionale Il Centro, eccola qui, il titolo principale è dedicato a Catarra, spese Catarra sotto accusa il presidente della provincia incalzato da Giletti sulla RAI. Le altre notizie riportate in prima pagina, nelle cronache ospedale di Atri, i racconti shock dei bambini con l'anoressia, scuola a Piano Daccio, l'istituto Rozzi costruisce cantine e frantoi, poi in migliaia i visitatori alla fiera dell'agricoltura ma con code di due ore. Poi di spalla, turismo, natura e cibo, una Pasqua con meteo e presenze variabili. Andiamo quindi alle pagine interne del quotidiano Il Centro, ci soffermiamo soprattutto sulle cronache regionali, partiamo proprio dalla prima pagina regionale con l'industria del tempo libero, vacanze di Pasqua, l'Abruzzo interno, meglio della costa, prenotazioni in flessione, ma regge il turismo natura, bene anche le offerte legate all'enogastronomia. Parco Gran Sasso Laga apre domani la prima casa vacanze. Poi di spalle, indagine Fab CNA, cresce la scelta last minute e i giovani preferiscono l'estero. In basso altre notizie, i rapporti tra l'Abruzzo e la Russia, seminario su impresa e turismo, poi il 16 aprile ad Ortona l'agricoltura come opportunità, risorse comunitarie, intervenga Febbo, agricoltura contro ripartizione fondi. Andiamo alla pagina successiva sempre della cronaca regionale, Acerbo e Chiodi, alleati contro petrolio e forest oil. Il candidato di rifondazione attacca il PD ed il governo che vuole le trivelle e il governatore ribadisce la contrarietà al progetto della multinazionale a bomba. Poi sul biura numero 14 la norma contestata, la legge sull'abuso preventivo e operativa anche se abrogata. Le altre notizie di politica in breve, candidature, legnini, liste, il centro-sinistra fa bene ad allargare. Poi la lista civica città per vivere mia casa, Rapagnà candidato a governatore e poi la polemica Bruno Di Paolo contro i comitati elettorali, Centro Democratico, Tabacci e Toto, oggi all'Aquila. Andiamo alle pagine successive, iniziamo dalla cronaca di Teramo, entriamo quindi nelle cronache provinciali, la sanità che funziona, cure per i disturbi alimentari, voglio morire ogni volta che mi fanno mangiare, il racconto shock di una ragazzina di 12 anni malata di anoressia, ricoverata nel centro regionale di auxologia e della nutrizione pediatrica di Atri. Una storia lunga, 16 anni, quasi 2500, i piccoli pazienti nel 2013. Di spalla al liceo Delfico due ballerini parlano del rapporto con il cibo. Questa è la prima pagina per quanto concerne la provincia di Teramo, andiamo alle altre pagine provinciali, sempre per quanto riguarda Teramo. Giulianova, splendore rivista dedicata al ricordo di padre Tribuiani. Poi ricavati 30 mila euro, l'agrario costruisce cantina e frantoio con i terreni venduti. Fu vicario di due vescovi, muore Don Domenico Taraschi. Andiamo alla pagina successiva, spese folli, la provincia sotto Torchio, sulla Rai. Il presidente Catarra, protagonista ieri pomeriggio all'Arena, Giletti lo incalza sul progetto da 570 mila euro dell'idrovolante e sugli stipendi d'oro dei dirigenti. Tortoreto, quasi azzerata la lista di attesa alla Materna, la scuola di via Giovanni XXIII a Tortoreto. Poi in basso si parla della fiera dell'agricoltura, due ore di code, auto in fila sulla Teramo Mare e sulla vecchia statale 80, dalle 16 alle 18 fino agli svincoli di San Nicolò. Tanto afflusso quindi per la fiera dell'agricoltura. Giulia Nova, in venti puliscono la foce del Tordino, 40 sacchi di rifiuti. Andiamo alle altre pagine che riguardano in questo caso la cronaca di Pescara. Lo schianto in moto a Porta Nuova, il dolore per le vittime, i sogni spezzati della modella, distrutta la famiglia dell'amico, i due morti nell'incidente di via Colonna. La ragazza cubana aspettava la grande occasione per affermarsi nello spettacolo ed in TV. Domani c'è pagati l'addio al carpentiere papà di due figli. Le reazioni, le lacrime degli amici, prima la festa, poi la tragedia. Esplode bombola di gas, un ferito grave, scoppio in una manzarda a Montesilvano, uomo di 34 anni ricoverato al centro ustionati di Cesena. Pagina successiva, sempre in cronaca di Pescara. Il comune non fissa le scadenze sulle tasse, e caos sui pagamenti. Il Consiglio si è sciolto senza varare le regole per tasi e tari. Solo per l'imposta sui servizi c'è una data, il 16 di dicembre. Pagina successiva, dedicata alla cronaca provinciale di Chieti. Imprenditore sotto accusa, allegrino processo per la bancarotta. Il presidente di Ascom Abruzzo ha giudizio con il figlio Luciano ed un manager per il crack di una società romana. Di spalla cultura niente tagli, arrivano anche i Marlen Kunz. Poi in basso, Eleonora nascosta in una fattoria, vasto la nuova pista sulla maestra musicista, scomparsa, porta in Puglia. Pagina successiva, andiamo a Lanciano. L'attesa è finita, il sipario si rialza. Fenaroli, i lavori sono terminati, teatro rimesso a norma dopo oltre un mese di chiusura forzata e decine di spettacoli saltati. Derubato alla fiera, prenda schiaffi, ladra col pancione. Poi il partito dell'acqua, Sasi, ore decisive per scegliere il terzo componente del CDA, mentre i ricercatori messi alla porta alla Mario Negri. Lettera a cinque ministri, Santa Maria in Baro, l'ultimo e disperato appello dei sindacati. Poi in basso, Mega Elettrodotto, Terna apre a 16 comuni. L'impianto Villa Nova Gissi al centro di un incontro a Roma con l'associazione consumatori Acai. Andiamo all'Aquila. La notizia principale proviene da Pesca Seroli. Domani funerali e lutto cittadino. Parrocomore in chiesa, sotto gli occhi dei fedeli. Don Daniele chiede aiuto e si accascia colpito da infarto. Il ricordo del Vescovo, il sindaco Nanni. Tragico evento che ci ha scosso dopo una mattinata di festa. L'Aquila, 4.000 visitatori a Palazzo Cappacamponeschi. Torna a vivere grazie al FAI. Una sala giochi nella discarica. Avezzano si indaga su una fattura tra i rifiuti per individuare il responsabile. Poi un altro atleta si è tuffato e mi ha salvato. Vittorito, il racconto della campionessa di equitazione caduta nel fiume. Ho visto il cavallo annegare. Andiamo alla pagina successiva. La chiesa aquilana. Petrocchi saluta D'Ercole, un vero amico. La nomina dell'ausiliare a Vescovo di Ascoli. Il capo della diocesi mi è stato di grande aiuto in questi miei primi mesi. Affitti case comunali. C'è un nuovo esposto. L'avvocato Carlotta Ludovici. A San Gregorio gli inquilini costretti a vivere in alloggi pieni di crepe. Bene, a questo punto possiamo, prima di andare allo sport, possiamo andare al quotidiano Il Messaggero. Vediamo quindi la rassegna stampa di cronaca anche del quotidiano Il Messaggero. Prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Esplode l'attico grave inquilino. Montesilvano, sigaretta accesa e una fuga di gas scatenano il finimondo in Via Emilia. Ustionato un uomo di 34 anni trasferito in Eliambulanza Cesena. Palazzina inagibile. Poi in alto per lo sport calcio chiedi un pari che non serve. Il Teramo vince a Castelrigone. L'Aquila il caso. Censura sulla Palazzo Lilla. Arrivano nuovi colori. Pescara rabbia e dolore per i due morti. Poi matematica il rush vincente del liceo Einstein di Teramo. L'Aquila 2.000 persone per il restauro pirota. Riapre Palazzo K. Boom di visite. L'idrovolante è mai partito nella bufera. Teramo Catarra si difende all'arena di Giretti. Nel mirino pure il maxi stipendio del segretario. In basso la via Crucis dei lavoratori. Si parla proprio dei riti della settimana santa. Andiamo alle pagine interne del quotidiano Il Messaggero. Partiamo con la cronaca dell'Aquila. Riapre Palazzo K. Arrivano 2.000 visitatori. Il restauro è costato 2.800.000 euro. L'appuntamento. Concerto di Pasqua dei solisti aquilani. Poi di spalla. Petrocchi saluta ad Ercole. Ha sofferto da discepolo. L'arcivescovo racconta la convivenza nella stessa residenza. Il commiato. Crollo di via Campo di Fossa. Chiesto il risarcimento agli enti con il processo che è in corso. Poi il caso l'edificio Lilla sarà ritinteggiato e cambierà colore. Pagina successiva. Andiamo quindi alle cronache della provincia aquilana. Avezzano e Sulmona. Partiamo da Sulmona con la ricostruzione e assistenza. Quasi tutto paralizzato. Poi a Pescassero, la tragica domenica delle palme. Il parroco stroncato da infarto. Malore fatale nella sacrestia dopo le celebrazioni. Altri articoli che provengono da Avezzano picchia un poliziotto durante la retata alla stazione, mentre a San Vincenzo morto schiacciato dal trattore per una manovra sbagliata. In basso, in migliaia, ieri sul Monte Salviano di Pangrazio. Ripeteremo la chiusura. Andiamo alla pagina successiva. In cronaca di Pescara. Bombola esplode in casa. Grave l'inquilino romeno ustionato per una sigaretta. Palazzina inagibile. Incidenti frontale in galleria. Auto contro scooter. Poi in basso, dolore per Cristian e Misney. Folla commossa all'obitorio per le vittime dello schianto in centro. Niente autopsia. Domani funerali di D'Angelo. Torna a Cesena, la salva della ragazza. E qui le foto di Cristian D'Angelo e Misney Montes, deceduti dell'incidente stradale. Guidavo ubriaco, denunciato a penne. Pagina successiva. Andiamo in cronaca di Chieti. Eleonora, per le forze dell'ordine, sarebbe ancora viva. Progetto trascollinare. Ecco il bando da 2 milioni. La nuova arteria decongestionerà il traffico in via Vestini. Poi via Crucis dei lavoratori. In una piazza gremita. Forte un momento mai così attuale in una crisi profonda. L'evento. Poi alla fiera dell'agricoltura di Lanciano. Tanta gente e una raffica di furti. Andiamo in basso. Moto contro una Mazda ventenne sbalzato e grave. Pagina successiva. Andiamo in cronaca di Teramo. L'idrovolante mai partito in tv nell'arena di Giletti. La provincia della bufera. Catarra in studio dice la sua. Si è spento Monsignor Domenico Taraschi. Poi gli aborti sono in calo. 500 all'anno. un quinto delle pazienti sono straniere. Per la pillola RU486 all'ospedale Mazzini vengono effettuati 2-3 ricoveri a settimana. Movimento 5 stelle in piazza con la Trifoni e mercante a Giulianova. Chiudiamo qui il discorso relativo alla cronaca. A questo punto ci fermiamo un attimo per mandare in onda una fascia pubblicitaria. Subito dopo ci ritroveremo con la rassegna stampa sportiva. Rassegna stampa di sport. Iniziamo con il quotidiano Il Centro. Questa è la prima pagina del centro dedicata a Lanciano e Pescara. Ultima chance. Entrambi fuori dalla zona playoff. Giovedì sono condannati a fare risultato per sperare. Lega Pro seconda divisione. Blitz in Umbria. Il Teramo torna al primo posto. Rischio retrocessione. Chieti sono pari e anche i playout sono un miraggio. Prima divisione. L'Aquila obiettivo è conservare la quarta piazza. Andiamo quindi alle pagine interne. Sorvoliamo le pagine nazionali. Andiamo quindi a seguire le notizie che riguardano il Pescara. Il Pescara è vivo. Si riprenderà il DS Giorgio Repetto. Credo nei playoff. Nulla è perduto. L'allenatore parla di salvezza. Solo una provocazione. Mascara c'è in dubbio Balzano. L'esperto siciliano pronto al rientro. Il capitano proverà a stringere i denti. Andiamo quindi al Lanciano. Lanciano serve un acuto per tornare in zona playoff. Dopo 31 giornate i rossoneri fuori dalle prime otto della classe. Digerita la quarta sconfitta di fila. Squadre in ambiente puntano sulla sfida contro i toscani di Sarri per riprendere la corsa verso gli spareggi. Promozione il posticipo di ieri. Padova-Regina. La sfida è terminata. 2-2. Sfida di bassa classifica. Andiamo quindi alla Lega Pro. Cominciamo dall'Aquila che ieri ha riposato. Il rosso-blu ha riposo. L'Aquila vuole tenersi il quarto posto. Il presidente Chiodi guarda avanti. Sarà decisivo lo scontro diretto alla Fattori contro il Catanzaro all'ultima giornata. Sono i tabellini quindi delle altre partite del campionato di prima divisione. Possiamo andare quindi alla pagina successiva. Riguarda la seconda divisione. Esattamente il Teramo. Il Teramo risorge e torna in vetta. Fiore e Gaeta, entrambi alla primo gol, esaltano il Diavolo e condannano il Castel Rigone. Campitelli e Vivarini sorridono e fissano l'obiettivo. Al primo posto ci teniamo tantissimo e ce lo giocheremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Andiamo a vedere le pagelle del quotidiano Il Centro. Migliori in campo Cenciarelli con 7,5. Poi troviamo Lulli con 7. Via via gli altri voti. 6,5 per Gaeta e Fiore, gli autori dei due gol insieme a Caidi e Speranza. Poi 6 per Scipioni, Masullo, Di Paolo Antonio, Casolla e Dimash. L'unica insufficienza è quella di Narduzzo con 5,5. Direi a questo punto, prima di andare avanti con la rassegna stampa sportiva, di andarci a seguire proprio il servizio relativo alla vittoria del Teramo a Castel Rigone. Una vittoria importante per il Teramo sul campo del Castel Rigone del patron Brunello Cucinelli. Alla fine in terra umbra i Biancorossi si impongono per 2-1 e riconquistano la vetta della classifica. Tutto sommata o meritata la vittoria dei Biancorossi che hanno giocato contro una squadra che avrebbe dovuto avere le motivazioni al massimo. Ed invece a fare la partita è stato soprattutto il Teramo che ha conquistato tre punti che rafforzano le speranze di vincere il campionato. Domenica prossima ci sarà il Messina in casa il 27 aprile, poi toccherà al Cosenza. La gara in realtà non ha riservato grandissime emozioni nell'undici iniziale. Dimash e Bucchi non ci sono. Narduzzo è titolare. Al quarto minuto il Teramo parte subito forte con questa conclusione che finisce in gol. Fa tutto molto bene Fiore guardare per credere. Ecco la sua conclusione che trafigge il portiere di casa. Il Teramo ovviamente festeggia ma non c'è troppo tempo perché all'ottavo minuto il Casterigone pareggia. Coresi ci prova su calcio di punizione. L'erroraccio di Narduzzo è evidente il bomber Tranchitella ne approfitta. 1-1 e terza rete per Tranchitella contro il Teramo. Al minuto numero 18 prova a farsi nuovamente vedere la formazione di casa ancora con Coresi il migliore dei suoi. Questa volta Coresi ci prova dalla distanza ma Narduzzo è protagonista e si riscatta in cornea. Passano i minuti ma soprattutto la pioggia diventa sempre più battente. Coresi rimedia per la troppa vemenza. Un cartellino giallo più che meritato per questo fallo e salterà la prossima partita del Casterigone. Come dicevamo il tempo diventa sempre meno clemente al trentesimo. Narduzzo due volte protagonista questa prima volta sul calcio d'angolo e poi sulla conclusione del numero 11 della squadra di casa. Il primo tempo si chiude qui sull'1-1 tutto sommato giusto. Nella ripresa con la pioggia che continua ad essere incessante a rendere problematiche anche le riprese del match. Al novantesimo secondo di gara e Gaeta a regalare una grande emozione. Bello questo assist lungo e dubbia posizione di offside. Gaeta ci prova così. Palla che si stampa esattamente sulla traversa. È però solo il preludio al gol che arriva al terzo minuto della ripresa. Gaeta questa volta non sbaglia e viene servito alla perfezione. Il tocco da sotto è perfetto. 1-2. Teramo nuovamente in vantaggio sotto il di luglio. Al minuto numero 5 viene fermato per posizione di offside Santarelli. La formazione di casa protesterà a lungo per la decisione del direttore di gara. Il Castierigone cerca in tutti i costi al gol del pareggio che però non arriva al settimo minuto. C'è questo tiro cross di Santarelli sul quale è bravo Narduzzo. Al ventitresimo il tecnico del Castierigone cerca di correre ai ripari gettando nella mischia gli urni al posto di Moraci. È però il Teramo a rendersi nuovamente pericoloso al ventiseiesimo minuto di gara quando il diluvio sembra essersi leggermente raffreddato con questa punizione di Divas che Speranza non riesce a toccare dentro la porta. La palla finisce sopra la traversa. Al trentaseiesimo si fa nuovamente vedere la formazione del Castierigone ancora con Coresi che ci prova da fuori. Smanaccia Narduzzo ma nessuno del Castierigone è bravo nel gettare la palla dentro. Poi la solita girandola di cambi che però non sortisce gli effetti sperati. Per il Teramo tre punti pesantissimi nell'ottica del primo posto. Per il Castellarigone una retrocessione che diventa sempre più realtà. Naturalmente di Castellarigone Teramo e di tutto ciò che concerne il Teramo Calcio si parlerà questa sera in Biancorossi appuntamento alle ore 21 come ogni lunedì sera su Teleponte. Andiamo al Chieti restando quindi sempre in seconda divisione. Il Chieti non sa più vincere ora deve difendere i play out. Non basta il cuore in una partita giocata alla Garibaldina e la Martina va subito in vantaggio. Di Filippo firma il pari. 1-1 tra Chieti e Martina le pagelle in basso. Tantissime le insufficienze. Molti 5 soprattutto in attacco. Qualche 6 non si va oltre il 6 proprio in casa Chieti. Scusate. Il post gara. Di Meo mi fa male vedere chi entra e non da tutto. Il tecnico credo nella promozione attraverso gli spareggi. Ho trovato il Chieti in coma a livello mentale ma sto trasmettendo positività. Voglio fare l'impresa. Andiamo alle pagine successive. Andiamo in Serie D con il Giulianova. Sconfitta e polemiche. Agiesi giallorossi in vantaggio vengono ripresi e superati ma recriminano sull'espulsione di Catalano. L'allenatore Monticciolo abbiamo subito due euro gol ma il rosso al nostro difensore non c'era. 3 a 2 quindi per la Jesina. Miterrino un altro passo verso la salvezza. Torbidone stende il affano. Gara chiusa nel primo tempo. Sul Mona tre sberle a Macerata. Poi finisce senza reti. Celano regge l'urto della Matelica ed è fuori dalla zona a rischio. Sul Mona tre sberle a Macerata. Gara chiusa nel primo tempo. Poi la Renato Curiangolana. Vittoria in pieno recupero. Il portiere ospite finisce in ospedale. Paura per il giovane cattafesta della Civitanovese dopo un colpo alla gola. Andiamo al torneo delle regioni che si disputa in Friuli. L'Abruzzo parte con il piede giusto. Sfiorato il bottino pieno. 5 vittorie su 6 per le rappresentative impegnate in Friuli. Oggi si torna in campo. Poi la Coppa promozione all'Ortona. La Virtus si aggiudica la finale col Notaresco. Doppietta di Dragani 3 a 1 quindi per la Virtus Ortona contro il Notaresco. Andiamo quindi alle altre pagine del quotidiano. Il centro cominciando dal basket. DNA Silver Roseto schianta Firenze. Legion in catte della 94 ad 86 per gli Shark. Vincendo la prossima gara a Ferrara e Biancazzurri saranno certi dei playoff senza aspettare gli altri risultati. Di Biase siamo stati bravi nei momenti caldi. Poi la vittoria degli Sharks in guai a Chieti. Ai Biancorossi non basterà vincere il 27 aprile a Firenze per conquistare i playoff. A 1 donne semifinali vincono Raguse e Schio. In serie D punti importanti per l'Aquila e Virtus. Monte Silvano. Andiamo alle pagine successive con il basket di DNC. Vasto Espugna-Orvieto. La BCC blinda la terza piazza della classifica soffrendo solo nel finale di gara. 66 a 71 ad Orvieto. Giulianova sconfitta a Porto Sant'Elpidio. Fatali gli ultimi liberi. 83 a 81 per il Porto Sant'Elpidio. Scivolone in casa per l'Amatori Pescara. 78 ad 80 contro l'Eurobasket Roma. La squadra pescarese chiude la stagione regolare al quarto posto. Nel girone di Lanciano-KO in dolore a Sansevero. Nella fase orologio la BPR punta a migliorare la settima posizione. 75 a 69 per il Sansevero. Poi nella DNC chiusa la fase orologio. Campli-Batti-Sernia e si prepara ai play-off con la classifica finale con la formazione Farnese che arriva a pari punti con il Nardò a quota 32. Andiamo al rugby. La Gran Sasso cede in casa ed il Cus Genova fa il colpo. I Grigio-Rossi chiudono il primo tempo in vantaggio per 19 a 7. Poi crollano il tecnico Rotilio. Abbiamo avuto un calo di tensione durante la ripresa. In serie B e C Avezzano a Ragusa pari. Importante. L'Aquila-Mattoccia. Ora non dobbiamo perdere altre partite. Andiamo quindi al volley con la SIECO-Impavida. Lanci. La SIECO-Impavida c'è e può eliminare Monza. Play-off di serie a 2. Domenica Ortona la gara 2 dopo la sconfitta di sabato in Brianza. Oggi il tecnico protagonista Sky Sport 24 nello spazio dedicato alla palla a volo. Poi in alto in B2 vince l'Altino ma potrebbe non bastare per salvarsi. Chiudiamo quindi qui il discorso relativo al quotidiano il centro. Possiamo passare quindi al quotidiano il messaggero con la rassegna stampa del quotidiano il messaggero. Cominciamo con il Pescara. Pescara la forza di crederci. Il pareggio contro il Cittadella complica la corsa agli spareggi ma la classifica dice che i biancazzurri possono ancora sperare. La squadra ha confermato gravi limiti di personalità ma la graduatoria corta può favorire ancora una rimonta. Zauri il problema per noi resta l'incostanza. Poi in basso una notizia che riguarda l'Aquila. L'Aquila la prima dei play-off tra le Muramiche con la vittoria a tavolino sulla Nocerina. Manca un punto per lo spareggio al Fattori. Poi andiamo al Lanciano. Segni di vita. 8 gare per rinascere. A Siena bene per l'atteggiamento ma la crisi di risultati è pesante. Baroni a caccia dell'antidoto. Momento delicato. Vogliamo tornare protagonisti. Il tecnico difende le scelte. Troeste, Bockel e Casarini hanno giocato. Tanto dovevano riposare. Poi la paura. Ferrario solo tachicardia. Pensa già all'Empoli. In basso il calendario non aiuta. Ora un trittico da brividi. Andiamo quindi alle pagine successive del quotidiano Il Messaggero. Cominciamo con il Chieti. Chieti c'è una pagina che si è aperta. Ancora qualche secondo per rientrare proprio nel quotidiano Il Messaggero. C'è una pubblicità che si è aperta. Proviamo a tornare indietro. Andiamo un po'. Un qualche secondo. Ecco qui. Forse ce la facciamo. Torniamo quindi al Chieti. Eccolo qui. Chieti un punto inutile. Serviva un successo ai Neroverdi ma con il Martina finisce 1-1. Ora per la salvezza serve un'impresa di Filippo. La squadra è viva e può lottare. Di Meo non si arrende. I ragazzi non mollano però in questo momento serve gente motivata. Raineri assolve l'Aquila. Una sconfitta in dolore. Si parla di rugby. Poi possiamo andare al Teramo. Il Teramo si riprende la vetta. I Biancorossi vincono a Castella e Rigone. Tornano primi. In rete Fiore e Gaeta al primo centro stagionale per entrambi. Avvio in discesa per i Biancorossi. Immediata la replica dei padroni di casa. Decisivo un Euro-goal ad inizio ripresa. Campitelli ribadisce. Obiettivo primato. Il dopo partita con il presidente Campitelli che in sala stampa parla di primo posto. Vivarini soddisfatto. La squadra ha risposto bene. Da qui alla fine continuerò a cambiare gli uomini. Così come ha cominciato a fare ieri. Giusta decisione per il tecnico Teramano. In questo momento con il Teramo che già ha aggiunto il suo risultato primario. Quello di partecipare alla prossima Lega Pro Unica. In Serie D Giuliano ha beffato. Iesina ok in rimonte. I ragazzi di Monticciolo restano in dieci dopo venti minuti ma segnano due gol. Nella ripresa il forcing vincente De Marchigiani. I giudiesi perdono il quinto posto. Contestato il cartellino rossa catalano. Rigore netto ma non c'era chiara occasione da rete. Maceratese. Cala il Tris per il sulmore Nottefonda. Angolana la vittoria della Speranza. 3 a 2 con la Civitanovese. Poi in basso Celano Gagliardo. Un ottimo punto per la salvezza. 0 a 0 sul campo del Matelica. Andiamo alla pagina successiva. La Mitterrina tre punti preziosi con il Fano. Nel calcio a 5 il Pescara fa ricorso contro la gara Martina Asti. Per l'Acqua e Sapone secondo posto storico. All'ultimo turno solo una formalità contro la marca Baby. Palla a mano. Con l'Italia under 20 a Chieti c'è la Teramana di Pietro convocata proprio in nazionale. Giorgia di Pietro tra le 16 azzurre che dal 17 alla 19 aprile prossimi si giocheranno alla pala Santa Filomena di Chieti la qualificazione ai mondiali under 20. Poi il volley in basso. Lanci ricarica la sie cortona. Possiamo andare in finale. Il presidente Dragonetti presenta lo staff del Miglianico. Parliamo di golf. Andiamo alla pagina successiva. Dedicata alla basket. Roseto batte Firenze. E ora vede i playoff. Per centrare l'obiettivo deve strappare la vittoria a Ferrara o sperare nella sconfitta in trasferta della Proger Chieti. Dopo una partenza molto positiva la squadra di Caia torna in partita e si arrende solo nei minuti finali. Vasto e terza davanti a Pescara, K.O. Globo e B.R. Nella prima gara della fase orologio c'è subito il derby. Per Giuliano Vellanciano subito match impegnativi con Porto Sant'Elpidio e Maddaloni. Poi la notizia di pallanuoto. La Original Marines cede nel big match mentre per l'Atletica la Tomei vince in Repubblica Ceca. Chiudiamo qui il discorso relativo alla rassegna stampa. Possiamo quindi rientrare in video in studio. Chiudiamo qui dicevamo la rassegna stampa di Cronaca e di Sport. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle ore 21 con Biancorossi per parlare del Teramo Calcio. Alle ore 20 e 40 visto che fermo il torneo di eccellenza non ci sarà il consueto appuntamento in diretta con Biancazzurri ma vi riproporremo la festa di qualche settimana fa del San Nicolò vittorioso proprio nel campionato di eccellenza. Io vi saluto, mi fermo qui. Subito dopo la pubblicità vi ritroverete in studio con Francesco Graduato e Paolo Marinucci per parlare proprio degli eventi sportivi di questo weekend. Arrivederci. Buongiorno, buongiorno e bentornati a questa edizione di Prima di Tutto. Parte la settimana che conduce alla Pasqua. Ieri si sono giocati sia i campionati nei campionati di prima seconda divisione anche in Serie D. È stata una giornata poco positiva per il Chieti che nello scontro diretto contro il Martina ha impattato 1 a 1. Un risultato deludente che cambia poco per quanto riguarda nella zona medio-bassa della classifica. Invece ha vinto il Teramo ed è tornato in prima posizione 2 a 1 sul campo di Casterrigone. Un risultato per certi versi inaspettato che permette però la formazione di mister Vivarini di riportarsi al primo posto in classifica in condominio con Casertana e Cosenza. In Serie D invece è stato il giorno dell'Ancona che pur pareggiando nell'anticipo di sabato 1 a 1 contro la Recanatese ha vinto il campionato anche in considerazione del fatto che il Matelica non è andato oltre lo 0 a 0. Giornata negativa per il Giulianova che si è fatto rimontare. Vinceva 2 a 1 sul campo di Iesi ha perso poi alla fine 3 a 2. Vittoria della Speranza invece per l'Angolana che ha vinto 3 a 2 proprio in estremis contro la Civitanovese. Di questo e altro parleremo quest'oggi con il nostro Paolo Marinucci. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Dicevamo non si è giocato, l'Aquila ieri non ha giocato, ha vinto a tavolino 3 a 0 con la Nocerina. Andiamo a vedere comunque il quadro dei risultati che sono maturati ieri nel campionato di prima divisione Girone B. Paolo c'è stata la sorpresa, la sconfitta del Frosinone sul difficile campo di Lecce. La squadra Ciociara ha rovinato in un'unica partita quello che Di Buono aveva fatto nell'intero arco del campionato. Sì, tanto sorpresa non è nel senso che il Lecce, sappiamo tutti, abbiamo visto poi a parte la difficile partenza ha fatto un campionato davvero straordinario. Ha vinto 2 a 0 meritatamente, è un risultato che comunque ci può stare, nel senso che è uno scontro diretto, conosciamo le qualità tecniche e tattiche del Lecce, uno scontro alla pari, però poi in questo caso ha vinto il fattore casa per il Lecce e quindi il Lecce che si porterà un punto dalla vetta dove c'è il Perugia che è davvero una corazzata. Il Perugia è una squadra che riesce a fare punti sia quando gioca bene che quando gioca male, forse questo è il vero segreto della capolista del Girone B di questa prima divisione. Poi vabbè c'è l'Aquila che dovrà difendere per quanto riguarda gli abruzzesi, l'Abruzzese e l'Aquila dovrà difendere questo quarto posto, l'hanno detto già, già l'ho detto Mister Pagliari, l'ho detto il Presidente Chiodi, vorrà a tutti i costi difendere questo quarto posto, basta un punto alla compagine rosso-blu per qualificarsi ai play-off e giocare la prima in casa al fattore dei play-off. L'Aquila arriverà ai play-off, farà un bel finale di stagione, però non credo riesca poi a salire in Serie B anche se sarebbe bello per tutto l'Abruzzo. Domenica ci sarà uno scontro diretto molto complicato sul campo del Frosinone che vorrà riscattare il passo falso dell'ultimo turno, intanto andiamo a vedere la classifica, vedete il Perugia 62, Lecce 61, Frosinone 59, queste le prime tre posizioni, ricordiamo domenica ci sarà Frosinone e l'Aquila, poi nell'ultimo turno Perugia-Frosinone con il Lecce che riposerà avrà il turno di riposo e quindi probabilmente sarà tagliato fuori nella corsa al primo posto. Sì, probabilmente sì, il Frosinone non gli è andato affatto bene in questo finale di stagione, incontrare il Lecce, poi incontrare l'Aquila, lì che si vuole giocare il quarto posto, fare uno scontro diretto con il Perugia, sono un po' sfortunato in questo senso, però ha un organico per fare bene in queste ultime due partite sicuramente, e sicuramente vedremo dei bellissimi match. Posizioni che sono già delineate anche per quanto riguarda i play-off, ci sono quattro punti di distacco tra la Salernitana non in classifica e il Grosseto decimo, probabilmente le prime nove sono quelle che andranno a giocarsi la Serie B. Sì, sicuramente sono anche quelle che meritano un po' di più, anche se magari sia il Ponte d'Era che la Salernitana hanno fatto un campionato un po' altalenante, sinceramente dalla Salernitana mi aspettavo molto di più quest'anno, piuttosto che i soli 45 punti che ha fatto fino ad oggi, e mi ha stupito invece magari il Benevento, nonostante l'organico in attacco soprattutto che ha, per il resto insomma non mi stupisco, è un po' un campionato fatto così diciamo un po' all'acqua di rosa. Lasciamo adesso la pagina della prima divisione, scendiamo in seconda divisione, vediamo adesso il quadro che ricordavamo in precedenza, gli ultimi due turni, la volata per il primo posto, il Perugia che domenica prossima andrà sul campo della Rechi di Salerno, sarà comunque una trasferta molto complicata, poi avrà la partita casalinga contro il Frosinone, il Lecce invece che domenica prossima giocherà l'ultimo impegno della sua stagione sul campo dell'Arena Garibaldi di Pisa, poi nell'ultimo turno riposerà il Frosinone, partita in casa contro l'Aquila, trasferta a Perugia, questo è il quadro un po' dei prossimi due turni. Ricordiamo si giocherà il prossimo 27, si tornerà a giocare il prossimo 27 di aprile, domenica ci sarà il turno di riposo in vista appunto della Pasqua. Adesso lasciamo la pagina della prima divisione, scendiamo in seconda divisione, andiamo a vedere il quadro dei risultati che sono maturati nell'ultimo turno. Questi risultati, Paolo, il Teramo ha vinto 2-1, ha riconquistato il primo posto, ti aspettavi che i biancorossi fossero capaci, fossero capaci di raggiungere questo obiettivo? Ma servivano risposta da dare ai tifosi, da dare alla squadra stessa, da dare al Presidente, da dare a tutto quanto l'ambiente biancorosso e la risposta per fortuna c'è stata, c'è stata questa risposta, questa bella vittoria, i complimenti vanno anche a Mister Vivalini che ha messo dentro i giocatori meno utilizzati, ha fatto giocare un po' tutti, però quello che mi sorprende è l'Arzanese che sta facendo un girone di ritorno davvero davvero sorprendente e è andata a vincere anche contro il Foggia 3-2. Ricordiamo che domenica scorsa aveva vinto a Teramo meritatamente. Aveva vinto a Teramo, esatto. 2-1 aveva vinto e sta facendo un ottimo girone. Se continua così, farà i play-out, io credo che sia poi la nonna. Stiamo vedendo intanto le immagini della partita con il quale il Teramo ha sbancato 2-1 il campo del Castelrigone. Castelrigone che in questo girone di ritorno ha conquistato solo 8 punti e praticamente adesso è condannato alla retrocessione. È un po' una delusione di questo girone di ritorno. Sì, aveva iniziato molto bene. Poi, come succede spesso in questi cambiati di Lega Pro, squadre fortissime nel girone di andata, vanno a picco proprio nel girone di ritorno. Succede spesso che vanno via a blocchi giocatori, ne vengono altri che si pensano siano più forti, poi in realtà si rivelano cosiddetti, come si dice, dei bidoni. Quindi, insomma, il Castelrigone ha fatto molta fatica in questo girone di ritorno. Probabilmente dal mercato di gennaio non sono arrivati quei rinforzi che ci si aspettava. Il presidente Cucinelli è intervenuto in maniera pesante sul mercato, però gli acquisti non si sono rivelati azzeccati. Esatto. No, anche perché prendere magari anche quando si prendono giocatori, come si vuol dire, quando si prendono i grandi nomi, i nomi non è detto perché siano funzionali al tipo di gioco di una squadra. Qualche volta è meglio prendere un giocatore di sostanza fisicamente forte più che un grande nome, perché sa fare il suo lavoro sporco in mezzo al campo. Magari il giocatore bravino tecnicamente, ecco, magari in un campo del genere come quello di ieri, un giocatore bravo tecnicamente non sarebbe riuscito a fare neanche mezzo passo senza sentire la fatica oppure senza fare qualche errore. A proposito di mercato di gennaio, continua la scalata del Messina che ieri ha conquistato la promozione diretta. Ci sono stati, ricordiamo, cinque verdetti, sono arrivati cinque verdetti. Messina, Foggia, Melfi e Ischia in serie C unica. Retrocessioni invece matematiche per Gavorrano e Poggi Bonsi. Sì, il Gavorrano così come il Poggi Bonsi hanno meritato questa retrocessione perché avevano un organico non adeguato per questa seconda divisione, per questo giro nei B della seconda divisione. Il Messina è uscito un po' alla distanza, è uscito fuori, ma lo sappiamo tutti, non lo scopro io questa mattina, è una formazione davvero davvero forte, una formazione compatta comunque che sa giocare anche un buon calcio e quindi merita di stare lì al quarto posto. Stavamo vedendo prima la volata per l'ottavo posto, sono arrivate le prime sette squadre in classifica, sono già promosse. Manca da disegnare soltanto l'ottava promossa, la Mezzia 43, Tutto Cuoio, Aprilia 40, Chieti, Martina, Sorrento 39, Aversa e Arzanese 37. Questi sono gli scontri che queste squadre dovranno affrontare nelle ultime due turni. Qual è secondo te la squadra favorita per aggiudicarsi questo ottavo posto? Se l'Arzanese avesse raccolto qualche punticino in più nel girone di andata disastroso che ha fatto, io credo che l'Arzanese possa fare quantomeno i play-out. Quanto meno i play-out, sì. Ripeto, se avesse preso qualche punticino in più poteva aspirare anche a prendere quell'ottavo, quell'ultimo posto disponibile per la Lega Pro Unica. Io credo che ai play-out poi però alla fine ci andrà. Ci andrà e secondo me, questa è una previsione, i tifosi dell'Arzanese non facciano gli scongiuri ma secondo me riuscirà anche a vincere i play-out. Questa sarebbe una cattiva notizia per i tifosi del Chieti. Chieti che ricordiamo ieri ha pareggiato 1-1 contro il Martina. A proposito di questa partita possiamo andare a seguire le immagini dell'1-1 tra Chieti e Martina. Risultato che serve a poco per quanto riguarda la formazione di mister Di Meo che nell'ultime 8 partite ha raccolto soltanto 4 punti. Vediamo il servizio. La vittoria si conferma una vera maledizione per il Chieti. Nel giorno dello scontro diretto che metteva in palio la speranza di rimanere agganciati al treno della salvezza diretta i ragazzi di Pino Di Meo si fanno imporre il pareggio dal Martina rinviando nuovamente l'appuntamento con una vittoria che manca ormai dal lontano 16 febbraio. Contro i pugliesi finisce 1-1, un risultato che non rende pienamente giustizia la prestazione offerta dall'11 neroverde che adesso non può far altro che vivere una Pasqua di passione. A due giornate dal termine, con 4 punti di ritardo dalla Vigor Lamezza e Ottava, i play-out sono quasi una certezza, la Serie D un incubo da scacciare al più presto. Ma il calendario sotto questo punto di vista non aiuta. Alla ripresa, infatti, Guidone e compagni dovranno affrontare Casertana e Foggia. Insomma, per evitare la retrocessione servirà un mezzo miracolo. Venendo la cronaca del match, la partita contro il Martina è un condensato di emozioni. Pronti via, Elchietti è già sotto. Sono passati appena 7 minuti di gioco quando Arcidiacono dimostra di essere in giornata di grazia. L'esterno va via De Giorgi, cross dal fondo per la corrente Guadalupe, che di piatto la piazza alle spalle dell'esterrefatto Robertiello. 0-1 e palla al centro. I neroverdi, come un pugile suonato, finiscono al tappeto. La miccia che accende la reazione tiatina potrebbe arrivare subito. Appena un minuto dopo, quando questo tiro di Guidone viene toccato con un braccio da Zammuto, lo stadio protesta, ma l'arbitro lascia proseguire. Episodio da vedere e rivedere alla Moviola. Il match, dicevamo, si accende e intorno alla mezz'ora decolla definitivamente. Prima si fa vedere il Martina con questo gol annullato per fuorigioco a Montalto, poi, al 27esimo, risponde Elchietti. Rossi lavora bene un pallone sul limite dell'area. Palla filtrante per Verna, che da ottima posizione incrocia all'angolino. Modesti si supera e devia in corner. A questa occasione fanno seguito 15 minuti di emozioni a raffica. Trentesimo, Arcidiacono Sciò. Palla in area per Ilari, il cui diagonale finisce fuori di poco. Due minuti più tardi è la volta dei padroni di casa. Discesa imperiosa di De Giorgi. Tocco per Berardino, che incrocia troppo debolbente. La palla finisce sul fondo. Al trentaseiesimo poi ci prova Guy, ma la sua posizione da distanza siderale si perde sul fondo. Un minuto più tardi c'è il pari del Chieti. Tutto nasce da un calcio d'angolo di Berardino. Angolo che dà vita a un'azione insistita risolta in mischia da Nicolas Di Filippo. Il pur bravo Modesti questa volta non può nulla. Il diagonale del centrale del Chieti si insacca sotto la traversa. L'Angelini esplode, pregustando il sorpasso. Un sorpasso che potrebbe arrivare quattro minuti dopo, al quarantunesimo. Fa tutto Berardino. Prima si libera con un fallo di Calombo. Poi, dopo una corsa di oltre 40 metri, si presenta tu per tu con il portiere. La sua soluzione di tiro, una palombella forse un po' troppo pretenziosa, viene però ribattuta in calcio d'angolo. E l'ultima emozione del primo tempo. Si va all'intervallo sull'1-1. La ripresa è molto meno spettacolare, ma offre pur sempre diversi cegni di cronaca. Dopo appena 90 secondi, Calombo per poco non la combina grossa, deviando verso la propria porta un innocuo cross di 5. Modesti però non si fa sorprendere ed evita la frittata. La risposta del Martina è immediata e arriva un minuto più tardi con Provenzano. Il mediano, servito da un assist di Arcidiacono, si ritrova solo davanti al Robertiello, ma il portiere risponde presente. Un difensore, poi, evita il tapin vincente di Montalto. Con il passare dei minuti, anche alla luce dei risultati provenienti dagli altri campi, la paura di perdere prende il sopravvento. Le squadre, così, si fronteggiano in modo guardingo, in attesa di sferrare il colpo del K.O. Si va avanti, perciò, a forza di botta e risposta. 29esimo, è il turno del Martina. Il colpo di testa di Provenzano finisce di poco fuori. Trentesimo, tocca al Chieti. Guidone fa tutto bene, doppio dribbling e tiro che Modesti deve deviare in angolo. L'ultima emozione arriva nel finale, quando i neroverdi sono già ridotti in dieci. Al 42esimo, rosso diretta alla selva per questo fallaccio sul giocatore pugliese. E il terzo e ultimo minuto di recupero, quando la palla del match point capita sui piedi di Rossi, ma il centrocampista, a porta sguarnita, la spara letteralmente in bocca a Modesti. Finisce così, uno a uno. Un punteggio che condanna il Chieti a una Pasqua di passione. Paolo, come si diceva nel servizio, sarà una Pasqua di passione per il Chieti? Sì, sicuramente. È stata una bellissima partita, è un giovane molto interessante come Arci Diacono, che gioca molto bene, l'ho già visto a Teramo, ha fatto davvero una bellissima partita. Il Chieti però continua a fare questi pareggi. Questa volta hanno giocato entrambe le squadre. C'è stato un tempo che magari hanno avuto... Probabilmente il Chieti avrebbe meritato qualcosina in più, soprattutto nel finale. Abbiamo visto l'occasione sciupata da Rossi al 93. Sì, ma lo stesso Berardino, che si è fatto 40 metri di campo, di corsa, e si è presentato davanti al portiere avversario, ha sbagliato però troppo il Chieti. Il Chieti, così come il Martina, davanti alla porta non è stato incisivo. E quindi magari ha pagato questo. Ecco, ora qui vediamo il primo gol, bellissimo, però io credo che lì non si possa lasciare un giocatore completamente libero, da solo, proprio dentro l'area praticamente. Questo rigore in movimento. Qui c'è qualche errore. Mister Di Meo dovrebbe un po' lavorare per queste ultime due partite che rimangono, no? Dovrebbero un po' lavorare sulla fase difensiva, anche se ormai siamo giunti alla fine di questo campionato. Ecco, qui questo forse... Quindi vediamo il probabile... Secondo te è calcio di rigore questo? Ma non lo so. Il difensore effettivamente crea volume, fa volume all'interno dell'area, e sappiamo che per regolamento se è attaccato al corpo e non crea volume, è involontario e quindi non c'è il calcio di rigore. Se devia il pallone creando volume invece ci sono gli estremi per fischiare la massima punizione. È difficile però vedere dalle immagini così un po' se è o non è il calcio di rigore, insomma. Nei prossimi due turni per il Chieti ci sarà un calendario terribile. Prima la trasferta a Caserta, poi la partita a Casalinga con il Foggia. Adesso non si può guardare al nome dell'avversario, bisogna fare soltanto punti. Esatto, esatto. Francesco, bisogna assolutamente fare soltanto punti, poi noi ci auguriamo che il Chieti faccia punti sia con la Casertana che con il Foggia, anche perché aiuterebbe il Teramo a rimanere su in vetta così facendo, perché sia Casertana che Foggia sono diretti avversari per il primo posto del Teramo. In questo caso, poi il Chieti però anche se dovesse vincere queste due partite, non sono sicuro riesca a rientrare nell'ottavo posto, perché come vediamo qui c'è il Lamezia che è il Casterrigone e il Melfi. Che è praticamente retrocesso, il Melfi che è già promosso. Esatto, il Melfi sa se il Casterrigone non ha più nulla da chiedere a questo campionato, perché tornerà sicuramente in Serie D. Il Lamezia sulla carta è strafavorito per l'aggiudicazione dell'ottavo posto. Esatto, e sono quei punti rosicchiati all'andata che fanno poi la differenza. Vedi, Lamezia non sta giocando assolutamente bene in questo girone di ritorno. È riuscita a portare a casa diversi punti, a rosicchiarsi diversi punti nel girone di andata e ora sta tirando la cinghia, come si suol dire, e può benissimo andare all'ottavo, può benissimo qualificarsi per la C unica, mentre c'è il tutto coio, così come il Chieti che sono completamente in caduta libera e ora si hanno delle partite difficili da giocare. Sarà lotta serrata quindi alla ripresa del campionato per aggiudicarsi un posto nei play-out. Bene, lasciamo il campionato di seconda divisione, scendiamo nel campionato di Serie D. Andiamo a vedere il quadro dei risultati che sono maturati ieri. Ricordiamo, nel campionato di Serie D si tornerà a giocare giovedì prossimo, nel turno infrasettimanale prepasquale. L'Ancona ha pareggiato 1-1 contro la Reganatese, ma ha vinto il campionato, come dicevamo anche in apertura, visto che il Matelica non è andato oltre lo 0-0 con il Celano, un risultato davvero importante per la formazione marsicana, che così fa un ulteriore passo verso la salvezza diretta. Ha perso male invece il Sulmona, 3-0 sul campo di Macerata. Ha perso anche il Giulianova, 3-2 sul campo di Iesi, una domenica ancora amara per il tecnico Monticciolo, che dopo l'esordio fortunato contro il Boiano, che però era un avversario di certo non molto probante sotto il piano tecnico, visto che poi è stato tra l'altro anche escluso dal campionato. Vittoria della Speranza invece per l'Angolana, che ha vinto 3-2 in Estremis contro la Civitanovese. Andiamo a vedere il quadro, la classifica, questa la classifica, Ancona con 71 punti, ha vinto il campionato, 61 Matelica, il Giulianova ha 44 punti, fuori dalla zona playoff, questa è una brutta notizia per l'11 giallorosso, a 41 c'è il Celano in zona tranquillità, a 37 il Sulmona in condominio con la Miternina, quindi sarà lotta serrata negli ultimi turni per evitare i playoff, i playout. Ma a proposito della partita tra Ancona e Re Canatese, andiamo a vedere i riflessi filmati del match. Doveva essere la serata del ritorno in Lega Pro, e lo sarebbe stato se Caccioli, al sesto di recupero, non avesse sprecato il match ball. Invece la festa è rimandata, il pari dell'Ancona, contro la Re Canatese davanti le telecamere di Rai Sport non basta. Per ora, se il Matelica in casa col Celano e il Termoli a Dagnone non dovessero vincere l'aritmetica, arriverebbe coi biancorossi seduti la domenica sul divano, oppure ogni discorso sarebbe posticipato alla trasferta di Isernia, giovedì santo. La notte del Conero è spettacolare, per passione e calore, 5.000 spettatori a colorare di biancorosso lo stadio, in attesa solo di esultare. I primi a farlo sono però quelli dell'Are Canatese, che al decimo vanno in vantaggio, col calcio di rigore trasformato da Giorgio Galli. Penalti molto generoso, visto che Palmieri cerca, con astuzia, il contatto con Fabi Cannella e si lascia cadere appena sente l'avversario. Probabilmente la tensione è a giocare un brutto scherzo agli uomini di Cornachini, che giocano male e faticano a costruire. Bondi al diciannovesimo, inventa per Capparuccia, forse in fuorigioco, sponda per Pazzi, che tutto solo davanti a Verdicchio, cicca la conclusione, roba da mangiarsi i gomiti. Come quando, alla mezz'ora, Verdicchio ferma Cazzola, per il direttore di gara, s'accenti di Modena, è rigore ed espulsione al portiere giallorosso. Ritorna sui suoi passi, facendo riprendere con una palla scodellata. Il Conero è imbufalito. Bondi tenta la spaccata al 34esimo, ma dopo il contrasto, la palla finisce sul fondo. Nel finale di tempo, girata di Pazzi dal limite, che viene deviata e termina in angolo. Nel secondo tempo, l'area canatese si abbassa, vada a controllare e chiudersi per ripartire. Cornachini butta dentro Tavares, Pizzi e Sivilla. L'Ancona spinge, ma non sfonda, fino al quarantesimo, quando proprio Pizzi, scaraventa in rete un cross di Barilaro e riaccende la speranza del popolo bianco-rosso. Finale al Cardio Palma. Al quarantaquattresimo, destro di Sivilla in corsa e conclusione che finisce alta sopra, la traversa. Al quarantasettesimo, viene espulso Galli per doppia munizione. Due minuti più tardi, Degano ci prova da fuori, con un tiro velenoso che sfiora il palo. Poi, all'ultimo respiro, ecco l'occasione per Caccioli. Il Conero trattiene il fiato per un battito di ciglia, ma poi vede svanire il sogno di festeggiare in questa serata con la sfera sul fondo. Champagne in frigo e bandiere di nuovo nel cassetto, ma ancora per poco, forse per pochissimo. Abbiamo visto le immagini della vittoria, del pareggio, 1-1 tra Ancona e Re Canatese. Vittoria del campionato poi dell'Ancona che è maturata ieri pomeriggio, visto che il Mateli che non è andato oltre lo 0-0 in casalingo, è stata comunque una partita abbastanza equilibrata con un protagonista l'arbitro, con alcune decisioni un po' discusse. Sì, l'arbitro è stato protagonista in negativo, non si sa cosa abbia combinato tornare sui suoi passi. L'arbitro, una volta che fischia, ha fischiato e quindi non deve assolutamente tornare indietro nelle sue decisioni, anche se si accorge poi successivamente di aver sbagliato. Fischiato un calcio di rigore, ha dato un'espulsione da un poi, poi successivamente prendere e far scodellare questa palla in aria, anche perché il contatto sembra esserci e quindi il rigore tra le altre cose magari si poteva anche dare. Il Lancona però ha sbagliato davvero davvero troppo. Sto ripensando all'azione nei primissimi minuti quando la difesa ospite si era completamente fermata pensando fosse fuori gioco e quell'assist credo di Bondi sia stato verso un compagno. Pazzi, per pazzi, l'assist di Bondi per pazzi. Per pazzi e che ha acciccato clamorosamente il pallone e mamma mia, cioè, livelli di forse seconda categoria riesce a sbagliare con tutto il rispetto per la seconda categoria. Eccola qui, come fai? Come fai a sbagliare un pallone? Sì, davvero clamoroso. Lasciamo comunque complimenti alla formazione dorica, lasciamo adesso la pagina dell'Ancona passiamo a quella dell'Angolana che ieri ha battuto 3 a 2 la Civitanovese vittoria importante che fa sperare ancora la formazione di Paolo Bordoni la fa sperare diciamo nella salvezza diretta comunque nell'aggancio ai play-out andiamo a vedere le immagini del 3 a 2 tra Angolana e Civitanovese il servizio è stato curato da Roberto Marchione. Gara delicatissima sul fronte salvezza al Petrucci di Città Sant'Angelo tra Angolana e Civitanovese primo tempo impergnato per lo più nella zona nevralgica del campo con un leggero predominio territoriale dell'Angolana mentre gli ospiti ci provano sporadicamente di rimessa prima opportunità per i padroni di casa al sesto con un cross dalla sinistra di Cancelli per il colpo di testa di Francia un difensore respinge e il successivo tiro cross ancora di Francia viene bloccato a terra da Cattafesta al trentaseiesimo il vantaggio dell'Angolana il primo vantaggio altra azione personale di Cancelli sulla sinistra traversone basso per la corrente Francia che controlla e scarica sotto la traversa l'uno a zero nella ripresa riparte con più verb la Civitanovese che al quarto pareggia cross di Schiavone dalla sinistra la difesa di casa Cincischia senza riuscire a rinviare Valdessa aggancia nell'area piccola e trafigge Lupinetti per l'uno a uno l'Angolana non demorde al dodicesimo riparte in contropiede con Francia che giunto ai 20 metri prolunga per la corrente Gianzante che appena in area trafigge Lupinetti per il 2 a uno sulla partenza del contropiede brutto infortunio per Forlano che però dopo la partita è stato accertato che riuscirà a recuperare presto ancora Angolana al ventitresimo con Francia che riceve al limite prova a piazzarla all'angolino Cattafesta si distende e respinge la Civitanovese non demorde al trentaduesimo pareggia nuovamente cross di Taormina per Trillini dall'altra parte dell'area che grazie anche a una deviazione realizza in diagonale il 2 a 2 il finale è infuocato ancora Angolana al quarantacinquesimo triangolo Saltarin Vespa Saltarin al limite dell'area conclusione di quest'ultimo sciupata poco oltre la traversa e infine al quarantottesimo su calcio d'angolo su azione d'angolo Gianmarino svetta di testa e realizza il 3 a 2 sull'azione il portiere Cattafesta rimane a terra per 5 minuti e poi viene portato via in ambulanza vittoria che lascia l'angolana la speranza di raggiungere i play out la speranza è l'ultima a morire per l'angolana sia per quanto riguarda questa partita che per quanto riguarda le restanti ultime tre gare di campionato in cui grazie a questo prezioso successo siete ancora in corsa per cercare di raggiungere i play out oggi avete buttato a rende il cuore oltre l'ostacolo ci avete creduto fino all'ultimo è normale dobbiamo crederci sempre fino all'ultimo come stiamo facendo meritavamo sicuramente di vincere se oggi non avessimo vinto era un'altra beffa per noi come abbiamo avuto delle beffe in questo campionato però un applauso ai ragazzi perché ci hanno creduto fino al centesimo al novantacinquesimo al novantottesimo abbiamo raggiunto risultato importante la prima finale l'abbiamo vinta adesso andremo sotto con la prossima che sarà il materica fino ad arrivare alla fine del campionato e vedere come ci piazziamo mister Gabbadini una partita che in cui la cività novese ci ha comunque provato ci ha messo il cuore la volontà evidentemente di provare a raggiungere i play out dell'angolana quest'oggi sono stati più forti tanto rammarico perché comunque va da questo punto anche un punto sembrava fatto dopo che eravamo andati sotto per due volte dobbiamo stringere i denti fino in fondo dobbiamo dare il massimo perché fra infortuni e situazioni varie siamo stati un po' penalizzati e quindi dobbiamo andare avanti e lavorare vittoria della speranza per la Renato Curi angolana angolana che adesso dovrà ricucire il distacco sul sesto ultimo posto andiamo a vedere la classifica angolana che ha 26 punti per andare a disputare questi play out dovrà recuperare almeno ancora un punto su Mona agnonese e amiternina ricordiamo con 10 punti di distacco non si giocheranno i play out dai 9 punti in sotto si andranno a giocare i play out vittoria della speranza per l'angolana che adesso avrà tre turni appunto per ricucire questo distacco Paolo sì una piccola speranza per l'angolana dopo una bella vittoria contro una squadra comunque forte abbastanza attrezzata per la categoria per lo meno per la salvezza anche se lì poi alla fine sono tutte lì perché anche in queste categorie perdi una partita sei sotto la rivinci la domenica dopo torni su ecco l'angolana ora deve giocare al massimo fino alla fine per rimanere sempre lì sperare anche magari in qualche passo falso dell'agnonese o del sul muono della la mitarnina stessa per rimanere aggrappata appunto a questi play out per quanto riguarda invece l'alta classifica il Giulianova ieri ha perso 3 a 2 a Iesi è uscita dalla zona play off il cambio di panchina tra Donato Ronci e Alessandro Monticciolo probabilmente non ha portato i suoi frutti no ma credo che il Giulianova non abbia più nulla da dire a questo campionato insomma ha fatto vedere di essere dimostrato di essere comunque una buona una buona squadra ha fatto il suo onesto campionato probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa in più se nel mercato di gennaio la società non avesse indebolito la rosa tu sei d'accordo? o se fosse rimasto Ronci secondo me quindi tu sei un sostenitore di Ronci diciamo sei un pro Ronci no non sono un pro Ronci io credo che in un campionato così questo intanto è il quadro del prossimo turno domenica ci sarà Giulianova giovedì prossimo ci sarà Giulianova Maceratese sì una partita bella difficile anche questa comunque io credo che il campionato se si inizia con un alleatore che bene o male anche se al trenante riesce a riportare dei risultati comunque riuscendo a far vivere sonni tranquilli alla società una società diciamo secondo me perlomeno diciamo gli si deve permettere perlomeno di finire il campionato fino alla fine poi a fine anno si vedrà insomma perché cambiare così in corsa come vedi non sta portando dei risultati io avrei lasciato Ronci fino alla fine dell'anno e poi avrei valutato insieme il da farsi ecco prossimo turno invece partite casalinghe per Sulmona e Angolana non bisognerà assolutamente fallire no non bisognerà assolutamente fallire questo è un campionato alla fine che ha già detto tutto ma comunque soprattutto per la bassa classifica ancora molto molto da dire lo dimostrano queste ultime partite di campionato di questo girone F staremo a vedere tutto da guardare insomma perché io poi anche parlando di seconda divisione mi sono azzardato pure a fare pronostici ma è sempre difficilissimo insomma sono pronostici sono pensieri più che più che pronostici ecco qual è secondo te la vera delusione di questo campionato maceratese civitanovese ma io direi più la civitanovese che la maceratese e il Batelli che invece non poteva fare altrimenti forse il termo con quei 60 punti poteva averne qualche d'uno in più in realtà per l'organico che aveva messo su ad inizio anno comunque il termoli è un'ottima formazione ugualmente e magari ecco mi aspettavo qualcosina di più dallo stesso termoli in Matelica purtroppo ho incontrato una corazzata come l'Ancona quindi quest'anno davvero c'era poco da fare il campionato era deciso all'inizio anno l'Ancona sarebbe salito in Lega Pro unica io invece mi espongo dal mio punto di vista la vera delusione di questo campionato era la Civitanovese anche perché a inizio campionato avevo pronosticato per la formazione marchigiana i playoff addirittura invece ha appena 39 punti quasi al limite della zona play out secondo me dal mio punto di vista per la rosa che ha avrebbe potuto fare molto molto di più lasciamo adesso il rimaniamo perdone in serie D andiamo a seguire gli altri due servizi altri due servizi di giornata Maceratese-Sulmona 3 a 0 e Agnonese-Termoli che è stata curata dai nostri colleghi del Molise i servizi 4, 14 e 25 sono i numeri del terno che la Maceratese cala nel primo tempo chiudendo la gara col Sulmona e la rincorsa ai playoff ora in cassaforte gli abruzzesi dopo la rivoluzione di metà campionato sono invece in caduta libera oppongono una resistenza minima e vengono raggiunti al quart'ultimo posto da Ami, Ternina e Agnonese la Maceratese con Ruffini dal primo minuto e la coppia centrale di difesa con Aquino e Di Berardino appare subito più in palla e maggiormente motivata così la gara prende subito una piega precisa subito in attacco i Biancorossi con Ruffini che calcia da fuori aria tiro smorzato che potrebbe diventare buono per Belkaid che però viene anticipato di un soffio dall'uscita di Big & Comer due minuti dopo la Maceratese è già in vantaggio rete siglata da Mattia Santoni con un gran sinistro da fuori aria il Sulmona non esiste la Maceratese va vicinissima al raddoppio dopo otto minuti Ruffini calcia un gran sinistro dalla distanza deviato da Big & Comer sulla traversa passano altri sei minuti e arriva il raddoppio Santoni calcia verso la porta respinta bassa del portiere abruzzese spunta Ambrosini che ribadisce in rete al minuto 19 finalmente Sulmona punizione pericolosa con palla crossata in aria respinta della retroguardia di casa poi ne nasce un contropiede che Borrelli non riesce a finalizzare Luiso ne ha abbastanza e allora doppio cambio nel Sulmona fuori Cavassini che in realtà è infortunato e dentro Magaddino dentro anche Piccirilli al posto di Spadari soltanto un minuto però e arriva la terza rete dei padroni di casa stavolta la firma di Borrelli il suo gol è una perla gran sinistro da 25 metri la maceratese in assoluto controllo della gara il Sulmona non riesce nemmeno a tirare in porta bisogna aspettare il sesto della ripresa per annotare un'azione pericolosa degli abruzzesi Aquino controlla male di Francia calcia botta sicura verso la porta di Ferrara ma la difesa bianco-rossa riesce a fare muro la maceratese nonostante il vantaggio continua a fare la partita Ambrosini ha almeno due occasioni per arrotondare il punteggio da segnalare a 10 dalla fine un bel intervento in uscita di Ferrara su Piccirilli conclusione in porta deviata sul palo poi poco altro con la maceratese che gestisce il vantaggio con tranquillità fino alla fine e ora pronti a tornare in campo giovedì prossimo prima della pausa pasquale la squadra di Di Fabio sarà Giulianova il Sulmona ospiterà la re canatese spalti e gremiti al Civitelle per l'ultimo derby molisano della stagione i padroni di cassa in completo bianco si presentano senza di benedetto colpito da un virus intestinale ma con Esposito e Antonelli regolarmente in campo nello scacchiele giallorosso non sarà della partita mandorino squalificato per Miani solo panchine inizialmente a dirigere il fischietto fiorentino Luca Capasso pronti via gli ospiti si gettano a capofitto nella metà campo avversaria i ritmi sono subito intensi gli agnonesi tengono botta con un baricentro basso pronti a sfruttare la vena di Esposito e Petrone sulla linea avanzata primo squillo poco dopo il quarto d'ora da azione d'angolo i locali colgono la traversa Patania battuto la difesa ospite libera con affanno le redini del gioco sono a pannaggio degli Adriatici ma l'Olimpia si rende pericolosa dai piedi di Esposito sul calcio piazzato Patania si rifugia con i pugni il Termoli perde per noi e muscolari Nigro in difesa subentra l'esperto La Rosa l'undici di mister Giacomarro trova un imbuto al centro dell'area avversaria Todino prova a scardinare l'attenta retroguardia di casa conclusione fuori misura al venticinquesimo alla mezz'ora si rivedono gli altomolisani la difesa giallorossa si addormenta per poco non viene punita dallo spunto aereo di Petrone su invito di Esposito dalla bandierina tre minuti dopo Lagnone colleziona la più limpida occasione da rete il solito funambolico Esposito si presenta dinanzi a Patania palla al piede estremo difensore salva la minaccia in angolo Palumbo e Santoro fanno fatica in mezzo alle maglie bianche Toscano sbuca sul secondo palo al volo Biasella evita la capitalazione sul finire del primo tempo nella ripresa Giacomarro conferma il 3-5-2 Urbano mantiene un 4-3-3 a corto e votato esclusivamente al contropiede dopo dieci minuti Esposito sempre lui si divora il vantaggio dopo un numero in mezzo ai difensori avversari sfera incredibilmente messa a lato minuto 14 il centroavanti Termolese Santoro perde le stalfe e colpisce Di Lullo rosso diretto e squadra in 10 l'Olimpia rischia clamorosamente su punizione gli adireatici puliscono l'area e ripartono rapidamente dalle parti di Biasella serpentina ubriacante di Palumbo che si perde sul più bello la partita è giocata sul filo del rasoio altra ingenuità per il Termoli che perde Toscano fallaccio sotto gli occhi dell'arbitro e doccia anticipata ospiti ridotti in 9 a metà secondo tempo sul successivo calcio da fermo l'attaccante Palumbo sfiora l'incrocio dei pali nonostante l'inferiorità numerica l'11 di mister Giacomarro non arretra di un passo ma deve fare attenzione al genio di Esposito il numero 10 ruba palla sulla tre quarti a Ibocio e si invola verso l'area alla fine sarà solo calcio d'angolo la partita si avvia la conclusione ancora agnone pericoloso l'uscita bassa di Patania salva la sua porta dall'incursione di Pifano a destra l'ultima emozione la regala in negativo il centrocampista di colore Wade appena subentrato allo stremato di Lullo manata in faccia alla rosa inevitabile cartellino rosso gli obiettivi di campionato restano posti ma il risultato ad occhiali alla fine può accontentare entrambe ed Ancona un derby sentitissimo da entrambe le tifoserie stiamo vedendo peraltro le immagini dell'ultimo derby tra Ascoli e Ancona ringraziamo il nostro tecnico Pierferdinando Piccioni che in regia ci sta coadiuvando queste le immagini grande pubblico del Duga l'anno prossimo ci sarà davvero un derby molto sentito nelle market sì sicuramente sicuramente guardate questa è di qualche anno fa ma è una cornice splendida diciamo tra le due tifoserie questo è un punto uno dei derby più sentiti nelle marche insieme a quello con la San Benedettese tra Ascoli e San Benedettese San Benedettese che peraltro ha vinto il campionato e si sta anche sta riaffacciando diciamo si sta avvicinando al calcio professionistico sì io credo che l'Abruzzo in generale abbia un ottimo diciamo un ottimo un ottimo livello calcistico così come le Marche e Abruzzo e Marche quindi insieme diciamo fanno una bella una bella accoppiata di regioni con delle bellissime realtà appunto nelle Marche abbiamo San Benedetto Ascoli sono tantissime insomma le realtà che propongono il buon calcio e quindi diciamo siamo contenti così possiamo dire per queste belle realtà che ci sono vicinissime proprio a pochi passi secondo te squadre marchigiane e squadre abruzzesi dove saranno inserite nel prossimo torneo nel girone centrale o in quello sud? è una cosa da vedere insomma il nostro Andrea De Loisio fa molti calcoli ha fatto le sue supposizioni tutti sperano che il termo venga inserito magari nel girone centrale per motivi ambientali perché al sud ci sarebbero campi molto più caldi è un girone molto molto caldo quello del sud non lo so io mi auguro come tutti quanti i tifosi biancorossi il girone centrale ecco poi si vedrà insomma ma io credo che poi la società del teramo calcio riesca a tirare su un organico competitivo sia per il girone sud che per quello centrale certo se se il teramo dovesse finire nel girone sud bisognerebbe poi attrezzare una squadra molto più competitiva rispetto ad un girone centrale quindi prendere giocatori una squadra magari anche più fisica sicuramente sicuramente più fisica ma anche dallo stipendio più alto sicuramente perché c'è bisogno di giocatore del giocatore forte di sostanza di presenza un giocatore insomma che conti nel girone centrale io credo che si riesca un pochino a far giocare più i giovani si può provare a giocare davvero un buon calcio far crescere appunto questi nuovi calciatori dare spazio ai più giovani nel girone sud io la vedo un po' difficile fare questo tipo di ragionamento c'è tanta corsa buon gioco e tanto fisico ecco bene ti ringraziamo per averci coiudato nella conduzione di questa puntata noi ringraziamo anche il nostro tecnico Pierferdinando Piccioni che ha permesso la messa in onda di questa puntata per questa puntata è proprio tutto risentirci alla prossima settimana grazie a tutti per aver guardato